Per le loro caratteristiche i nostri processi produttivi non determinano significativi impatti sulla qualità dell'aria. I nostri maggiori sforzi, sia di carattere tecnologico sia gestionale, si concentrano sulla riduzione delle emissioni dei composti organici volatili che derivano dai processi di verniciatura dei veicoli. Come interveniamo? Attraverso la diminuzione del contenuto di solventi nelle vernici e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili. Solo così otteniamo livelli di emissioni molto al di sotto dei valori di legge e salvaguardiamo la qualità dell'aria. Con l'applicazione delle nuove tecnologie e processi in nostro peint shop, siamo capiti di introduire le peinti con un contenuto più solvente. Il nostro obiettivo lungo termine è di continuare a migliorare la nostra sostenibilità e la performance ambientale. La tecnologia che ci consente di ridurre le emissioni in atmosfera e quindi preservare la qualità dell'aria ci consente anche di recuperare energie e ridurre i consumi energetici. Recuperando il calore contenuto nei fumi dei cammini, produciamo acqua calda per il processo di verniciatura, risparmiando il consumo di metano che è una risorsa naturale importante. Grazie.